Perché finora ha realizzato una serie di contenuti innovativi che per esempio i governi Berlusconi non erano riusciti a realizzare. Dalla responsabilità civile dei magistrati, al job act, alla riduzione o all'annullamento della tassazione nei confronti dei nuovi occupati. E perché purtroppo il centrodestra nella componente leghista e in quella di Forza Italia si sono estremizzate e questo lascia uno spazio politico di centro che deve essere solidamente occupato dal nuovo centrodestra, dall'Udc, da coloro che stanno al governo e che devono assicurare insieme governabilità e innovazione.